Il Piacenza ha un punto, non è stata una squadra costruita per avere un punto dopo tre partite, quindi sarà una trasferta dura, insidiosa come le sono tutte, però incontriamo una squadra scorbutica, una squadra di esperienza e di carattere, magari hanno forza e quindi la metteranno su questo, poi se le condizioni del campo saranno un po' più pesanti, punteranno molto di più alla loro forza fisica e magari sui contrasti. Ma sappiamo come affrontare il Piacenza, quindi qualche dubbio, come vi dico sempre io, me lo lascio, perché vedendo allenarsi i ragazzi, più di 11 meritano di giocare, quindi io sono felice di questo e sicuramente andrà in campo la squadra che sarà più propensa a mettere in difficoltà il Piacenza. La fase difensiva è inevitabile che dobbiamo migliorarla, però dobbiamo far tesoro degli errori che facciamo, è tutta esperienza e l'esperienza ci deve insegnare che appena fai una disattenzione la paghi a caro prezzo. Noi nell'ultima partita abbiamo fatto due disattenzioni a tempo scaduto, da una nel primo tempo a una nel secondo tempo, perdendo la partita. Quindi stiamo lavorando e dobbiamo stare più attenti, più concentrati, come se la palla non è mai fuori e la partita non è mai finita. Quindi ci aspetto un'altra partita difficile, nell'unica trasferta che abbiamo fatto quest'anno abbiamo vinto meritatamente, anche se abbiamo vinto con il patema d'animo, ma potevamo chiuderla prima, già nel primo tempo potevamo chiudere la partita, però abbiamo vinto meritatamente. Dobbiamo invertire il trend in casa. Adesso pensiamo al Piacenza, concentriamoci al Piacenza e poi cercheremo di invertire anche il trend in casa, perché così non va bene, ma noi in casa dobbiamo costruire la nostra forza. Perché allenare l'Arezzo è un motivo di grandissimo orgoglio per me. Io ho voluto fare il salto, la mia prima squadra è l'Arezzo, benissimo. Sto dando tutto quello che ho a mia disposizione, a livello mentale e a livello fisico anche, perché poi sono stanco anche dopo le partite, perché delle volte mi sembra di stare in campo con i miei ragazzi, quindi quando li vedo soffrire soffro anch'io. Dobbiamo invertire il trend perché non se lo meritano i ragazzi, non se lo meritano i tifosi sicuramente, però la gente deve sapere che noi lavoriamo veramente per portare l'Arezzo dove merita, ma seriamente, non a chiacchiere. Quindi chi viene a vedere gli allenamenti lo sa, lo sa. Io ringrazio i ragazzi per tutto quello che stanno facendo per uscire da questa situazione che è il trend in casa. Io ragiono solo da quest'anno, quindi tante volte penso che la delusione di tifosi magari si trascina dall'anno scorso, però io penso da quando sono arrivato io a oggi e per quanto mi riguarda sono orgoglioso e felice di stare qui e spero di rimanerci per tanti anni perché è solo l'inizio, andiamo a giocare la quarta partita, quindi ce n'è di lavoro da fare, i miglioramenti da fare, ripeteremo gli stessi errori ma ci lavoreremo ancora di più, quindi è tutto normale. Poi se vediamo anche le altre squadre, quello che stanno combinando, ci sono delle sorprese in negativo e noi abbiamo punti in più. Quindi a ora dobbiamo invertire il trend, ma mi sembra anche una cosa normale.